La Metro Golden Players presenta... La televisione voleva proprio te... Ma tu lo sai che è caduto sto governo... Per te sarà un inferno, lavoro non ce n'è... Io son segreto su di te... Maria Stella, Maria Stella... Io son segreto su di te... Tu in pagella avevi tre... Con lei eravamo studenti insieme... Quindi mi ricordo di Maria Stella molto bene... Se devo essere sincera non particolarmente brillante negli studi... Si sa si sa che la stampa disinforma... La chiamano riforma i servie di la che... Però io so che nemmeno tu l'hai scritta... E forse neanche letta che colpa puoi aver... La sola colpa se vuoi che te la dica... Non eri così fica per stare alla tv... Sei troppo anziana per fare la velina... E comunque una vetrina volevi avere tu... E la P2 sapeva che... L'istruzione era un problema... Ed hanno scelto proprio te... Che in pagella avevi tre... Ho deciso di aprire un canale su Youtube... Perché intendo confrontarmi con voi sulla scuola e sull'università... Per massacrare la scuola e l'istruzione... Con grande abnegazione ti sei impegnata assai... Ma io lo so dei precari tu hai paura... La piazza ti assicura che te ne pentirai... Tu hai paura e sai perché... Maria Stella, Maria Stella... Saranno cazzi anche per te... Cerca casa da Mamet... Tu hai paura e sai perché... Maria Stella, Maria Stella... Saranno cazzi anche per te... Cerca casa da Mamet... A Mamet... A Mamet... Grazie a tutti